Asus ha annunciato la disponibilità nel nostro paese di tre nuovi notebook della gamma Zenbook. Si tratta dello Zenbook Pro 16X OLED, il più potente di sempre, Zenbook S13 OLED che offre massima portabilità, versatilità e potenza. In solo un chilogrammo di peso, Asus Zenbook 14 OLED, un prodotto che ambisce a diventare un vero e proprio punto di riferimento grazie L. Performance di primo livello, ha una portabilità estrema, ha il suono straordinario e design incentrato sull'utente. I laptop delle nuove gamme Zenbook Pro e Zenbook S sono tutti caratterizzati da un design nuovo e moderno e dai più recenti processori, ad alte prestazioni Intel Core serie H e GPU Nvidia GeForce RTX serie 30 nei modelli più costosi. Il look dei nuovi Zenbook è minimale e sofisticato, con bordi che rievocano diamanti con taglio a gradino e il nuovo logo Asus in monogramma in rilievo sul telaio. Asus ha collaborato con Nvidia per portare tutti i vantaggi di Nvidia Studio sui nuovi laptop Zenbook, comprese le ottimizzazioni software e i driver Nvidia Studio preinstallati per migliorare le prestazioni e l'affidabilità di tutte le applicazioni creative preferite dagli utenti. Le artisti e i content creator sono così in grado di creare alla velocità dell'immaginazione grazie a vantaggi hardware dedicati, che accelerano la progettazione 3D, l'editing video, il live streaming e il workflow di design grafico. Gli utenti possono accedere a strumenti esclusivi di Nvidia come Nvidia Omniverse per l'editing e la collaborazione in 3D, Nvidia Broadcast per il live streaming e Nvidia Canvas per la pittura di paesaggi assistita dall'intelligenza artificiale. In un altro articolo abbiamo visto cosa sono Nvidia Studio e Canvas Zenbook Pro 16x OLED. Il modello di punta della nuova gamma Asus Zenbook è il notebook Zenbook Pro 16x OLED, un portatile che integra diverse caratteristiche di design innovative, tutte progettate per aiutare la creatività in movimento, tra cui il meccanismo AS Ultra per le massime prestazioni. La potenza e le prestazioni di Zenbook 16x OLED sono racchiuse in un compatto telaio unibody molto resistente realizzato in lega di alluminio. Il peso complessivo è di 2,4 kg mentre lo spesso si ferma a 16,9 mm. Asus Zenbook Pro 16x OLED è un laptop validato da Nvidia Studio, alimentato da un processore fino a Intel Core 912900H di dodicesima generazione e da una GPU fino a Nvidia GeForce RTX 3060. I componenti ad alte prestazioni hanno bisogno di essere raffreddati efficacemente per essere utilizzabili a pieno potenziale. Il nuovo sistema di raffreddamento Asus Zenbook Pro utilizza due silenziose ventole e Cieblades, ciascuna con 97 pale curvate realizzate in stampa 3D per massimizzare la dissipazione del calore e abbasare le temperature di lavoro. Il dissipatore Asus raffredda la camera di vapore e l'itpipe da 5 mm della CPU e della GPU. L'aria calda viene espulsa in modo efficiente attraverso il nuovo meccanismo AS Ultra con la sua alzata di 14,5 mm che inclina anche la tastiera di 7 gradi. Il risultato è che la CPU e la GPU possono funzionare fino a un TDP combinato di 140 Watt in modalità performance senza throttling e possono lavorare sotto i 40 dB in modalità standard. La batteria ad alta capacità da 96 WH fornisce fino a 10 ore di autonomia per garantire che l'Asus Zenbook Pro 16X OLED superi anche le giornate di lavoro più impegnative. Per un'esperienza visiva mozzafiato, Zenbook Pro 16X OLED è dotato di uno schermo Touch Shren 4K OLED HDR 60Hz 550 Nits Dolby Vision 16 e 10, che è Pantone Velidated per una resa dei colori ai vertici del settore. Lo schermo copre il 100% dello spazio colore di CIP3 ed è certificato VESA Display Adr TrueBlack 500 per i neri più profondi. Altre caratteristiche innovative e aggiornate includono il nuovissimo sistema di illuminazione intelligente Asus White RGB che consente interazioni smart come gli avvisi visivi per l'alimentazione o lo stato delle prestazioni, il controllo rotativo Asus e dial per un controllo preciso e veloce delle app creative e un touchpad allargato con feedback aptico. Asus Zenbook Pro 16X OLED è disponibile per l'acquisto sullo store online del produttore al prezzo di 3200 euro. Zenbook S13 OLED. L'ultraleggero Zenbook S13 OLED è il compagno elegante e potente per chi è spesso in viaggio. Il suo telaio super sottile in lega di magnesio alluminio ha uno spessore di 14,9 mm e un peso di appena un chilogrammo. Il sistema integra un processore fino a M di Ryzen 7 6800 con grafica fino a M di Radeon 680 M. La durata della batteria può raggiungere le 19 ore, la connettività completa, tra cui USB 3,2 Gen 2 Type-C e USB Easy Charge. Lo rendono il perfetto compagno per il viaggio e per tutte le occasioni quotidiane. Il reattivo Touch Ren 16 e 10 2,8K OLED HDR Nano Edge Dolby Vision è pantone validated per una superba fedeltà dei colori. Certificato. Vesa Display Adr True Black 500 per i neri più profondi e ha un color gamat ultra vivido 100% di CIP3. Le basse emissioni di luce blu, certificazione TUV Rheinland, aiutano a non sforzare la vista e prendersi cura degli occhi durante l'utilizzo del notebook. Il suono immersivo multidimensionale è garantito da un sistema audio Dolby Atmos certificato Harman Kardon con un potente amplificatore intelligente. La cerniera Ergolift a 180 gradi permette di posizionare il laptop in modalità presentazione, per condividere informazioni con tutto il team ed evidenziare appunti e messaggi chiave grazie all'Asus 2,0 pen inclusa in confezione. Inoltre, l'Asus Numberpad 2,0 permette un veloce e facile inserimento dei dati dal tastierino, per un multitasking ancora più efficiente. Il notebook è inoltre protetto con il sistema Asus Antibacterial Guard che riesce a tenere lontano il 99% dei batteri, per una sicurezza dell'utente ancora più all'avanguardia. Zenbook S13 OLED è disponibile a partire da 1.400 euro sullo shop online di Asus e presso i migliori rivenditori. Zenbook 14 OLED. Zenbook 14 OLED è un portatile sottile, leggero e compatto con uno splendido display 16 e 10 2,8K OLED HDR NanoEdge che visualizza neri profondi e colori vividi. Poggia il suo funzionamento su un processore Intel Core di dodicesima generazione assicurando massime prestazioni grazie anche alla tecnologia Asus Intelligent Performance. Soluzioni come la cerniera di precisione Ergolift a 180 grado e il number pad insieme ai materiali di alta qualità e alle dimensioni contenute, assicurano un'esperienza utente premium. La grafica Intel Iris X è abbinata a 16 GB di RAM e 512 GB di SSD PSI 4.0 offrono prestazioni superbe con una batteria a lunga durata da 75 WH. Per un suono straordinario il sistema audio Dolby Atmos è alimentato da un amplificatore intelligente. Il design incentrato sull'utente include il login OneTouch con un sensore di impronte digitali sul pulsante di accensione, la nuova tastiera Asus Ergosense e l'efficiente Asus number pad 2,0. Zenbook 14 OLED da nuova vita al lavoro e al gioco, ovunque ci si trovi, e fa sì che gli utenti possano godere di tutti i benefici degli schermi OLED. Le numerose porte per la connettività e il supporto Wi-Fi 6 e permettono agli utenti di lavorare e offrire di contenuti multimediali, in mobilità in condizioni di massimo confort. Zenbook 14 OLED migliora tra l'altro le prestazioni della connessione wireless grazie alla tecnologia Asus Wi-Fi Master Premium. Nello, specifico Wi-Fi Stabilizer si occupa di filtrare le interferenze in modo da godere delle migliori prestazioni. Wi-Fi Smart Connect seleziona automaticamente il miglior dispositivo Wi-Fi nelle vicinanze così da aspettarsi sempre le migliori performance possibili. Zenbook 14 OLED è disponibile presso i migliori negozi specializzati, Asus e Shop e Amazon Italia a partire da 999 euro.